settembre 2021 capi nero bello 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Mamma mia. Uno. Mamma mia. Che bombetta ragazzi. Due. Un'ottimità qui. Tre. Un'ottimità qui. Ma non è finita qui. Questi sono spettacolari ragazzi. Spettacolari. Un'ottimità qui. 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 Attilio complimenti. Molto molto bello. Grande Attilio. mamma mia mamma mia che spettacolo belle belle grande continuiamo dai c'è l'unico a te fammi vedere guarda che bomboniera giancarlo mamma mia mamma mia raccogli mamma mia ma questo è spettacolare mamma mia che bomba grande Attilio atti cosa mi devi far vedere ma mamma mia mamma mia mamma mia mamma mia mamma mia mamma mia che bomba belle guarda che roba guarda là sotto guarda qua il lato piccolino mamma mia no mamma mia grande mamma mia atti ho trovato pure io qualcosa di spettacolare mamma mia guarda qua a tre mamma mia e che roba è guarda qua guarda qua guarda qua guarda qua guarda qua guarda qua ma chiamano un po' a Tommaso ma dove andare? vieni qua mamma mia che spettacolo mamma mia settembre 2021 Giancarlo devo accedere un piccolo ritrovamento te lo cavo live guarda qua mamma mia guarda qua che c'è qua mamma mia aspetta aspetta mamma mia che belle mamma mia mamma mia mamma mia mamma mia andato una ceppa ci hou visto un po' a più di coltata a cavare e ho�rei a trovare dai, aspetta che te li metto di qua, guarda un po', belli belli belli, ah questi sono più facili da cavare, vieni qua lì, vieni qua la fungale, è una bella ripresa qua, una bella famigliola qua, aspetta, belli, ok. Ciao ragazzi, sono stango, mi sono seduto, guarda qua, mi sono seduto un po', ci sono tre qua, mamma mia, che bella, mi sono andato a comprare forse, aspetta un po', mi sono un po' stancato e mi sono seduto, guarda qua, bella, vieni un po' qua, a bordo strada ragazzi, aspetta, c'è un po', aspetta un po', a bordo strada, si stai riprendendo? si, si, guarda questo qua, altri due, aspetta, no, sono tre qua, se ne so, uno quasi, e due là, e tre di là, aspetta, vai, vieni qua, e tre stanno da qua, aspetta di qua, ecco qua, uno vecchioccio, e uno più sopra qua, eccolo qua, eccolo qua, uno, e uno più sopra qua, quello di quello, lasciate, questo è il più bello che sarà qua, non lo vedo qui perfetto, perfetto rommi passando queste spine bello questo è il più bello bello, questo no, che hai voluto mangiare questo e questo è pure un altro e questo è un po' mangiato sopra bello, tu hai due la pia, la pia tu mamma mia ragazzi mamma mia, guarda qua che giurata mamma mia mamma mia mamma mia che gambo che gambo giornata terminata settembre 2021 ovviamente in compagnia di Tommaso ciao Tommy buonasera e di Attilio ciao a te ciao ragazzi allora fatemi un resoconto com'è andato male perché male, fammi vedere cioppi cioppini cioppini eh daci ora lo dico a tutte e due fate di meno gli spiritosi daci vieni vieni guarda che roba mamma mia ma sono porcini o melograni questo mamma mia guarda che roba questo è un melograno melograni melograni mamma mia mamma mia che roba ragazzi mamma mia che roba belle belle